Luigi De Chiara è ambasciatore d'Italia-Città del Messico. Nel corso dell'incontro con le multinazionali ha definito il programma un gioiello. Ci può dire qualcosa? Mi sembra che sia davvero un gioiello perché mette insieme due grandi sfide che soprattutto in questa parte del mondo oggi confrontano i governi. Il primo è quello delle problematiche sociali che sono anche alla base della proliferazione di attività criminali nei vari paesi e certamente qui in Messico. Il secondo è quello di contribuire alla lotta contro la criminalità favorendo un reinserimento sociale dei detenuti nella società e scoraggiando la reincidenza nei delitti e nel crimine.